bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video io sono xyuder e anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite forti anche della pace 14.30 di ieri mattina vedremo ragazzi nel video di oggi tutte le cose che hanno inserito e ancora non sono disponibili in game ma non mi riferisco alle schiena le cose quelle ve le ho già fatte vedere parliamo ragazzi di galactus parliamo del nuovo deltaplano il regalo con le prime immagini parliamo di tante piccole modifiche e ovviamente di tanti leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta di una delle cose più evidenti non appena accedete alla lobby dove ci sono tutte le varie opzioni del pass battaglia delle sfide e dove ci sono tutti gli eroi marvel come vedete è stato aggiornato il tavolo dei supereroi ed è chiarissimo che quella cosa rossa è ovviamente galactus galactus nella pagina nella pagina nella pace 14.30 ha ricevuto anche un update in game come vedete ragazzi se adesso puntate il punto dove prima c'era quel bagliore arancione potrete vederlo chiaramente se andiamo a vedere un attimino con questo effetto molto più di contrasto lo si capisce meglio se voleste vedere più da vicino ecco qua l'immagine questo vuol dire ragazzi che dovremo ancora aspettare un pochettino per vedere quello che succederà se veramente galactus farà un casino nella season 4 di questo capitolo 2 sappiamo che sicuramente ci sarà un evento perché è stato aggiornato il file della dell'evento di questa stagione ovviamente non sappiamo che cosa sarà ma aspettiamoci davvero di tutto per questa nexus war e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ecco qua le prime immagini ufficiali del deltaplano gratuito che si otterrà partecipando a tutte quattro le competizioni che iniziano proprio oggi 14 ottobre le altre non sono ancora state annunciate non dovete far niente di strano dovete solo partecipare al termine della quarta vi verrà dato questo deltaplano che è appunto un bel ricordo sicuramente da tenere in futuro nel vostro armadietto e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché sono stati trovati nei file di gioco degli elementi molto interessanti che riguarderebbero il ritorno di qualcosa di simile alla balestra la crossbow chiamata in inglese e dovrebbe essere qualcosa dedicato al fort nightmares come andiamo a vedere infatti in questa scritta dice a new sniper has been head to the data tables quindi potrebbe essere un nuovo cecchino dovrebbe essere un rework appunto del crossbow sappiamo che si chiamerà sniper cowboy quindi questo è il nome utilizzato nei file di gioco non è ancora quello ufficiale 36 il danno 6 secondi per caricarla o caricarlo 9 i colpi nel caricatore è un firing rate di 3.0 uno spread di 0.4 non abbiamo purtroppo delle immagini ufficiali ma sappiamo che sta per arrivare tra l'altro sappiamo anche che entro fine mese ci sarà una nuova pace perché non è stato inserito nulla riguardante il fort nightmares di quest'anno questo potrebbe voler dire happy games sta preparando qualcosa di bello e non voglia farci vedere nulla andiamo avanti con le news perché anche delle informazioni per quanto riguarda il backpack di iron man noi sappiamo che esiste il backpack di iron man ma non ha una funzionalità è semplicemente decorativo però dovrebbe arrivare una nuova ltm molto particolare che utilizzerà anche il cosmo jetpack che è appunto dedicato ad iron man sappiamo che avrà addirittura il carburante 100 la barra del carburante pieno riservi al 700 non so bene che cosa voglia dire fuel burn rate 0 fuel region 12 e upward trust 600 adesso io sinceramente non saprei tradurre in questo momento su due piedi questi dati ma a noi interessa sapere che probabilmente una nuova ltm che utilizzerà il jetpack è in arrivo anche qua staremo a vedere di che cosa si tratta e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché se per caso andate in giro per la mappa e non avete dei rumori intorno a voi quindi nessuno sta sparando non ci sono dei nemici attenzione potreste sentire dei nuovi suoni d'ambiente soprattutto quando entrate in foresta frignante o quando calpestate determinate aree della mappa questo ve lo posso dire perché come state vedendo qua sotto sono stati inseriti ben sette nuovi suoni d'ambiente è una piccolezza ma è una cosa che fa molto piacere perché aumenta ovviamente la sensazione di realisticità giocando nella mappa quindi non preoccupatevi se sentite dei suoni strani sono stati aggiunti nella patch 14.30 e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché invece una nuova modifica è in arrivo per quanto riguarda gli elicotteri se ne parlava già da un pochettino ma adesso abbiamo la conferma visto che abbiamo i file audio gli elicotteri avranno il carburante ed è una cosa giustissima non vedo perché elicotteri e barche non debbano avere il carburante come lo hanno i veicoli vi faccio sentire gli effetti sonori sono molto veloci molto brevi del carburante come avete capito ragazzi erano gli effetti di quando finisce la la miscela il carburante la benzina quella che vi pare non sappiamo quando verrà inserito ma ci auguriamo il prima possibile e quindi un nuovo piccolo aggiornamento in corso e prima di salutarvi volevo farvi vedere un'altra cosa dedicata al fort nightmare se mi sto riferendo ovviamente a questa immagine che non è altro che una copertura ancora non abbiamo ben chiaro come venga inserita sulle armi o comunque sui veicoli ma queste sono delle immagini che sono presenti nei file di gioco quindi una piccolezza sul fort nightmare in realtà la sappiamo insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette e vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non vi dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao